La Sagra della Muffoletta a San Cataldo ha riscosso un grande successo di pubblico durante le due giornate di festa. Oltre alla Roma delle Muffolette, l'atmosfera festosa ha coinvolto i visitatori attraverso intrattenimenti musicali, spettacoli di magia e bolle di sapone, attività culturali e un'esposizione di prodotti artigianali. Abbiamo organizzato, per valorizzare i prodotti tipici del nostro territorio, una manifestazione che promuova la muffoletta tipica sancataldese. Tipica perché mentre tutto intorno, in linea di massima, la muffoletta veniva condita con ragù o con verdura o salsiccia, noi ci siamo distinti, siamo sempre i soliti sancataldesi, ci siamo distinti rendendo più dolce quello che era già il dolce del pane col cimino, della muffoletta classica. Per cui abbiamo nel tempo realizzato questa muffoletta con il condimento di ricotta e miele, per cui abbiamo addolcito il dolce della muffoletta. Tradizione che da oltre 50 anni continua, non disdegniamo le altre muffolette perché a noi piace mangiare il cibo buono e in Sicilia, per fortuna, ancora abbiamo il cibo buono perché i prodotti nostri sono tra i migliori del mondo, per fortuna. Per cui abbiamo realizzato questa manifestazione dividendola in due giornate. La prima ovviamente l'abbiamo dedicata nella mattinata alle scolaresche di San Cataldo, invitando dei rappresentanti sia delle scuole elementari che delle scuole medie. Circa 500 ragazzi hanno riempito la mattinata nella mattinata alla villa, rendendo la mattinata gioiosa e molto ricca di temperamento. Con uno spettacolo di un mago, Mago Pallino, che li ha allietati e ha condiviso i giochi con i ragazzi. Diciamo che è stata una mattinata gioiosa e molto piacevole, che magari avremmo voglia di ripetere anche con altri prodotti tipici locali, che non sono pochi, sono in tanti.